Alessandro, tu delle Alpi una corsa davvero impegnativa? Sì, è una corsa molto impegnativa. Un'attività del calentario in Italia. La sua corsa è qua. Vediamo come è andata. I tuoi obiettivi di questa corsa? Sì, sicuramente cercando di arrivare davanti in vista davanti possibile per esperienze. Una tappa fondamentale in vista del Giro d'Italia, la corsa più importante per la tua squadra. Sì, diciamo che è l'ultima corsa prima del Giro con noi. Vediamo anche in parte dei risultati probabilmente la formazione di vera scelta dopo questo corso. In bocca all'uso. Grazie.